Massimo Bitonci, che cosa ne pensa della vicenda di Eletrolux? Noi continuiamo sulla linea della settimana scorsa che quella che Zanonato dovrebbe dimettersi da ministro per quello che assolutamente non ha fatto, come nel caso dell'Eletrolux. Abbiamo visto che invece il governatore Maroni in Lombardia ha trovato una soluzione per la Whirlpool che è tornata a produrre a Varese. Invece abbiamo questo caso clamoroso dell'Eletrolux che andrà via da Porcia spostando la produzione in Polonia. In realtà la proposta dell'azienda è scandalosa perché non si può pensare di ridurre gli stipendi dei dipendenti dal 40 al 60%. Di contro il governo dovrebbe fare una proposta diversa che è quella invece di abbattere assolutamente il cuneo fiscale perché sappiamo che rispetto a quello che percepisce un dipendente o un operaio l'azienda paga due volte virgola uno. Quindi c'è una base molto ampia che può essere recuperata non per diminuire lo stipendio del dipendente ma per diminuire la parte del cuneo fiscale che va allo Stato. Stato.